7.3. È questo il voto complessivo su una scala da 1 a 10 scritto sull'ultima pagella di Aset SPA. L'azienda Multiservizi di Fano ha affidato alla Sigma Consulting di Pesaro l'indagine biennale sul gradimento degli utenti. Mille le interviste effettuate tra famiglie e imprese nei 12 comuni in cui Aset opera. E i risultati sono stati più che soddisfacenti. Il 92% degli intervistati infatti ha espresso un voto tra 6 e 10, il 47% addirittura sopra 8. Numeri eccellenti soprattutto per il centro di raccolta differenziata e per il ritiro degli ingombranti a domicilio. Quest'ultimo con un livello di soddisfazione pari a 98 su 100. C'è un costante aumento e c'è appunto questa dichiarata capacità dei nostri operatori di fare in modo che le problematiche vengono risolte vengono risolte nel miglior dei modi. Per noi questo è il miglior coronamento di quest'anno che è stato un anno pesante, difficile e quindi come per tutti anche noi abbiamo avuto delle difficoltà, abbiamo avuto nuovi servizi, abbiamo avuto servizi che non ci saremmo mai immaginati di fare e c'è stata una risposta importante da parte dei nostri dipendenti in termini di flessibilità, in termini di nuove professionalità acquisite, in termini appunto di capacità di reagire a questa situazione. A colpire sono soprattutto i numeri relativi al servizio idrico, in particolare il 96% di gradimento ottenuto dalla modalità di fatturazione. Questo vuol dire che, secondo parliamo di soldoni, vuol dire che io cittadino so che se tu mi fai pagare tot, quei tot sono dovuti al consumo effettivamente che io faccio di quella cosa. E questo secondo me mi sembra un atto di fiducia enorme degli utenti nei confronti dell'azienda. Molto bene anche le farmacie comunali, l'illuminazione e il verde pubblico, per non parlare delle soste a pagamento. Il 60% degli intervistati sono convinti che i parcheggi a pagamento diminuiscono, fanno diminuire notevolmente l'impatto dell'ambiente e quindi l'inquinamento sulle nostre città e quindi la qualità della vita. E questa è una sorpresa un po' perché riteniamo che determinati servizi che magari potrebbero risultare odiosi, mentre invece forse c'è una nuova concezione, una nuova modalità di vedere la sosta a pagamento come modalità importante per garantire l'assolubilità delle nostre città, per garantire i servizi, per avere maggior mobilità. Tra le poche criticità emerse vi è la pulizia delle isole ecologiche, anche se spesso certe problematiche sono legate soprattutto all'inciviltà di alcuni cittadini. Gli sporchi isole ecologiche sono coloro che non conferiscono in maniera corretta ed esatta e quindi o abbandonano del materiale quando non si potrebbe, in quanto il regolamento parla chiaro, se c'è un contenitore pieno si riporta la rovina a casa propria, si telefona l'ase dicendogli di svuotare il contenitore e poi si riporta. Oppure quando si conferisce dal materiale che ha nulla a che fare con quello che viene conferito in quell'isola ecologica lì, quindi si dovrà lavorare molto, ancora un po' di più sull'educazione e da parte nostra aumenteremo le squadre che vanno a pulire questo genere di luoghi, cioè queste isole ecologiche, ci impegneremo sia da un punto di vista di una maggior sorveglianza che da un punto di vista di aumentare gli operatori che andranno a ripulire queste aree.